Allora, salve, sono Danilo, faccio gli giochinetic ormai da novembre del 2011 per un problema a un ginocchio, mi sto trovando veramente bene perché sia dalle ragazze alla reception, dai ragazzi ai dottori sono gentilissimi, disponibilissimi e cordialissimi, anche tra i vari infortunati, chiamiamoli così, c'è sempre molta cordialità, molta gentilezza, un posto eccezionale dove si lavora in armonia con degli ottimi tecnici, mi sto veramente trovando bene, adesso sono qua sul campo finalmente a toccare il pallone, quindi non mi posso lamentare.